Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video di Roblox Oggi sono ancora insieme al mio amico Kendo Vuoi una bacca? No non voglio una bacca ce le ho guarda Vuoi una bacca? No no tieni vuoi una bacca? Posso vendere una bacca? A quanto la fai la bacca? A 5 bacche 5 Una bacca 5 bacche Una bacca 5 bacche? Una bacca 5 bacche Eh No direi proprio di no se vuoi ho del grano guarda tieni No grazie devo tanto Allora siamo ancora nella nostra isoletta E guarda abbiamo sbloccato un'altra isoletta lassù Ci dovrebbe essere della lava Hai visto? E come facciamo ad arrivarci? Eh con dei blocchi Però io in questo episodio vorrei creare la nostra casina La nostra casina? Abbiamo abbastanza materiali? Ma tu hai rotto la casa Hai rotto la casa sull'albero Volevi fare la casa sull'albero? Hai rotto vabbè Ho rotto l'albero avevamo bisogno della legna Dai prendiamo un po' di legna Io ne ho un bel po' Dobbiamo sbloccare altre cose perché non abbiamo nulla ci hanno detto Allora Ti spiego cosa ci serve Segria? Sì ci serve la segheria Quindi dobbiamo Prendere abbastanza ferro Per crearla E ma dove troviamo il ferro? Così poi possiamo fare la legna E dov'è il ferro? Qua sotto magari? Io ce l'ho un po' di ferro Ne ho due Dove l'hai trovato? Boh Boh Però mi sa che è quello Mi sa che là c'è il ferro Infatti bisogna arrivare lassù Però non c'è un modo per usare i tronchi lavorati Cioè io non c'è Eh no devi prima craftare la segheria Vediamo Ferro Eh però il ferro me l'hai dato ma bisogna cuocerlo Serve una fornace No Sì Guarda No per fare la segheria non serve cotto Sì guarda ferro È cotto Allora dobbiamo fare la fornace pure No Mamma mia Dai io sto scavando la pietra allora Ok aspetta aspetta Arrivo Vediamo Bravissimo Io provo ad andare nell'isoletta lassù allora dammi un attimo Eh però non sprecare tutto il legno usa la pietra La pietra ah hai ragione hai ragione hai ragione bravo Eh la legna è più più cara Hai ragione bravo fortuna che me l'hai detto Ma ti devo insegnare tutto io c'è mai giocato a minecraft Eh sì ma a roblox no sono nuovo Ma questo è minecraft Eh roblox minecraft dai mamma mia Allora io prendo gli alberi eh Sì prendi tutto sto andando Certo che anche la pietra però è preziosa Eh sì abbastanza Ma secondo te al mercato dove c'è tutta quella gente La vendono Eh vendono qualcosina Forse Ma secondo te Eh Si può creare un generatore di pietra Un generatore di pietra Come su minecraft Adesso non esageriamo eh Ma perché no Prova Stai prendendo i materiali Dobbiamo farci la casina Abbiamo lava e acqua Eh la lava è lassù Oh ma il portale è diventato dorato Che bello Eh perché non te l'ho detto Eh ho scioppato Com'è scioppato Eh ma dai Ma perché voglio che la nostra casa sia bellissima Eh scioppone Allora dovete lasciare un mi piace Perché me la faccio scioppato Eh io ho scioppato un sacco Quanto hai scioppato Ce l'ho fatta Eh non si dice Ma questa è lava Prova No non rompere la lava Vediamo questo che cos'è Questo è ferro Dici no è pietra Cavolo col piccone No è pietra è pietra è pietra Questo è ferro C'è anche un fiore No questo è pietra mio caro È pietra hai ragione Questo Secondo me questo è lava Ho preso un fiorellino Wow ora si che siamo riusciti È meglio non rompere Allora scava scava Secondo me Io rompo Io rompo Rompi tutto Però te è lava Non lo so Si però non rompe Come non è lava Prova a entrare dentro Prova a entrarsi Eh ci sono dentro Ok non è lava È un blocco strano Lo scaviamo? No secondo me non va scavato Allora proviamo a fare qualcosa Vediamo Ho capito forse come Come fare No guardo ho capito come avere il ferro Va messo qua dentro Devi cucinarlo Sì Guarda Sì Ce l'ho fatta Ok sta cuocendo Sta cuocendo Eh ma come facciamo ad ottenerne dell'altro? Così fai quello che faccio io Uga 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 No bella faccia È la stessa gag che abbiamo fatto l'altra volta Hai ragione hai ragione Allora guarda qui ho un fiorellino che metto qui Questo è il mio fiore Non rubarlo Ah wow Adesso si che il problema è risolto Allora se hai trovato il ferro C'è un modo anche per ritrovarlo Guarda quanto legno che ha sprecato Eh ma sai che mi sa che il ferro l'abbiamo trovato nell'isolotto iniziale C'erano tipo due e basta Due e basta Hai ragione Secondo me è qua Continuo a scavare Eh io scavo sotto Dai dai scava un altro po' Fai il minatore Scava 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 Cotto vediamo Ma non l'ha cotto Come no? Ma no Non mi direi che l'hai usato come combustibile No ho usato il legno Ma è sparito? Eccolo cotto Ecco Ci volevano due blocchettini Buon appetito Abbiamo il ferro però ce ne serve altro Forse dobbiamo andare al mercato nero dei giocatori No non penso Io provo a scavare qua sotto guarda Vai prova 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 Vediamo Io voglio creare un altro banco da lavoro però Ho un baule possiamo creare un baule dai crea un baule va bene Ma che ci fai col baule? Non sprecare la legna Ma porca miseria voglio creare qualcosa Eh vabbè ma non è che si può creare qualcosa di sprecare Possiamo fare un tavolo per i fiori Possiamo fare un barile per i fuochi d'artificio Non abbiamo ancora neanche la casa Che te ne fai di un barile? Nighting hobby kit Zubox cartello Eh lo so però io voglio creare qualcosa porca miseria Un annaffiatoio Wow wow Non abbiamo la casa Una pala serve della pietra Prendo la pietra Ho tanta pietra io Dammi 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 passa Quante ne vuoi? Eh non lo so dammene un po' per arrivare a 10 Vedo 28? Dammi tutta la pietra che hai capito Come si butta? Eh non so come si Eh tirali So che li vuoi tenere tutti per te Come cosa vuoi fare? Che lo faccio io Voglio fare una pala Una pala? Una pala dai fai una pala Ok te la faccio io Tieni Dammi Eh non so come si dà Porca miseria Ah ecco tieni Ok grazie Ho tirato sui piedi Questo coso Eh ma io sono curioso però adesso eh No no Non mi dire che tu non lo sei No no ok andal Non possiamo romperlo Non possiamo No 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 romperlo Non romperlo dai Io lo rompo No sentiamo che cos'è prima Dai Ok ok Commentate Commentate Allora abbiamo due di ferro Fra un po' proviamo ad andare al mercato eh Ah scendere Che mia madre compro Ho capito Cosa? Allora io ho l'accetta Posso fare l'accetta in pietra Non è che serve un piccone in pietra Per rompere quel coso Perché noi se l'abbiamo in In legno In legno Mio caro eh Strumenti Estrazione Dobbiamo aumentare l'estrazione Perché non abbiamo abbastanza Il livello alto E come fai? Eh scavi Perché ti dà l'esperienza Guarda Guarda da pesca Guarda su skills Vedi? Agricoltura Estrazione se l'abbiamo all'uno Ah Devi scavare per aumentare di livello Ti devo dire tutto io Ma hai fatto un tunnel qua? Ma che bello Eh Ma quanto hai scavato? Eh tanto Volevi la pietra Te l'ho data Adesso scavo un altro po' Ok Ma quindi Aspetta Per arrivare a un certo punto Spunteranno i minerali? Eh secondo me sì Probabile Vuoi che non ci sia qua? Scava proviamo Estrazione eh Però ci mette un sacco Cioè ci vuole tantissimo Non so come mai Vabbè che ti aspettavi scusa Sai che cosa mi faccio? Ah ma aspetta Per arrivare al prossimo livello Dobbiamo craftare un piccone di pietra Un piccone di pietra? Ma io non ce l'ho C'ho una setta e basta Zitto e scava Zitto e scava Allora dopo io voglio andare al mercato Perché secondo me Cos'è successo? Non è accaduto No vabbè Kendall Stai attento Secondo me dei giocatori Vendono le altre cose Le scambiano magari Possiamo andare a fare un diretto E tu cosa gli dai in cambio? Eh io so Guarda Una pala C'ho della pietra C'ho della legna Gli altri secondo te Non ce le hanno queste cose iniziali Vabbè magari gli servono Che te sai No secondo me nessuno ti darà del ferro Per una cosa che puoi trovare inizialmente Ma guarda che bello il portale tutto dorato Guarda che bello Sì verissimo Bello 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 Io adesso mi faccio Uh mi serve un blocco di pietra E posso farmi l'azzetta No no lo faccio io Guarda non c'è bisogno Mi faccio l'azzetta in pietra Ok Faccio l'azzetta in pietra Vediamo Vai Creata Oh mamma A me serve della legna E posso fare quello in pietra Ma posso fare il piccolo in pietra? Guarda Vediamo quanto è potente È molto più veloce E ti dà più roba E mi dà più roba Mi dà più roba Ah vedi Ho sbloccato un nuovo tipo di albero Oh Ho sbloccato un nuovo tipo di albero Ma cos'è questa luce? Guarda È la nostra anima guida È una luce Che bellina Vediamo Cosa possiamo fare Strumenti Ancora nulla Un innaffiatoio Prova a fare un innaffiatoio Ma non sprecare le cose utili per quelle robe Allora io farei già la nostra casa Perché mi sono stancato È il tavolo da lavoro Sì Mi sono già stancato Allora facciamo così Facciamo Uh mi ha dato un nuovo alberello Facciamo un giro al mercato Vediamo se c'è qualcosa Vai tu Io continuo qua Guarda quanta pietra che c'ho C'ho quasi uno stack di pietra È nato un nuovo fiore Ma sai che questo coso mi sa che generi fiori Kendall? Quale coso? Sto coso qua che stavamo picchiando Poverino Zeneri fiori Ah può essere È sblocato un nuovo fiore Guarda quante lucciole Quante lucciole E lo mettiamo qua Ecco qua Io direi di fare la casa dai Io voglio fare un piccone Inizio a fare la casa Allora facciamola qua Guarda che bella eh La spada non possiamo farla? Eh non lo so Costa 20 Ti piace? Oh Eh faccio la finestra Come sprecare tutta la legna che ci serve Dai ma tanto gli alberi sono infiniti Ricrescono Guarda ne piazza un altro qua Eh Piazzale allora Non te li tenere nell'inventario Zitto e piazza Zitto e piazza Io abbasso la mucca eh No Allora Allora tu ce l'hai sempre con quella mucca La devi lasciare in pazzo Eh la facciamo Va affatto No 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 Dai Dai canta la lascia in pazzo con la mucca poverino Ok guarda guarda che bella Sta prendendo forma la nostra casa Non puoi dire che non è bella È bruttissima Ma che brutto Sto facendo tutto io Eh tu sei il costruttore Allora guarda mettiamo anche un po' di pietra Hai della pietra da darmi? Hai minato tutto prima Dai passa Devo fare la casa Quanto la vuoi? Tutta quella che hai Raccogli Dammi Dammi Ne hai un sacco Prendi 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 Ho scavato un'ora Sono stato scavare Scavo ancora Prendi 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 No 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 Uh ne hai preso un sacco Guarda Allora io farei tipo le case dei villager Hai presente su Minecraft Che i villager hanno quelle case iniziali Cos'è Minecraft? Cos'è ma non lo so Infatti che cos'è L'ho sentito parlare Questo è Roblox Infatti Oh mio dio guarda che bella Tutto in pietra Eh? Ma l'ho detto di farla in pietra Così risparmiavamo Ma dici che qualcuno potrebbe venire a griffarci? Secondo me si Se trovano tipo il codice No 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 Allora Guarda già c'è Jeremy che ha provato a entrare Sì 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 Ci ha invitato agli amici Vuole entrare Anche a te hai visto? Sì 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 Ah che bello Allora guarda Chiudiamo tutto così Sto facendo la nostra casina A breve sarà pronta Ok Magari possiamo invitare dei fan un giorno Ok ci sto Così si aiutano Eh? Li invitiamo Sì sì Hai ragione ecco Bravo Sfrutta i fan No Non volevo Vuole usare i fan per prendere i materiali La porta la facciamo qua Anche gli alberelli io Bravo bravo Pianta che ora Pianta grane Piantala Piantala E mucchetta vuoi un albero? No Oh quella mucca sta dormendo Lasciala in pace Non vedi che sta dormendo? Ok stiamo finendo il legno Cavolazzi amaracci E gli alberi non crescono più Eh te li sto piazzando Bene siamo messi proprio bene Guarda che bella Non hai voluto usare per fare una casa giga enorme Senti la casa bisogna farla Quindi non rompermi le scatole Ecco così Cos'ha Sei proprio un costruttore nelle vene C'è poco da fare Nelle vene scorre il costruttore Guarda che bella Alex se vuoi io ce l'ho del legno Veramente? No Dammelo allora Questi fiori che cavolo ci possiamo fare? Fa vedere Ci possiamo fare qualcos'altro Allora un astro Questo qua Che cavolo serve questo coso? Guardami bella faccia Un baule Fa vedere? Vomito il legno No Sta a vomitare il legno Che schifo Dammi dammi tutto Dammi 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 Guarda quanto ne ha Quanto ne aveva Vieni prendi anche della pietra Mio dio ma quanta Ma quanta roba hai? È da un'ora che scavo Mio dio Ok fammi prendere ste cose Perfettissimo Ah è quasi finita la nostra casa comunque Ok allora io vado a fare la siesta Serve una porta Dai almeno fai una porta E poi direi che abbiamo fatto Ma se c'è tutti i miei materiali Come faccio a fare? C'è già un tronco C'è già un albero qua Scavalo Eh scavalo Servono dieci alberi per una porta Dieci alberi? Dai la faccio io La faccio io La faccio io Tu ce li hai? Te li ho dati Dove è la porta? Dove l'hai vista? Strumenti Nel tavolo da lavoro Eccola Legno di pino? No Non abbiamo Poverino pino Pino Il legno di pino Ok così Così che ce l'abbiamo il legno di pino Scusa è quello no? Legno No è legno normale Il legno di pino È un altro E non ce l'abbiamo Scusa Questo qua non è legno di pino? No è legno normale mio caro È legno di pino Povero pino Eh perché gli rubano il legno a pino? Gli rubano il legno a pino Delle scale Sì possiamo fare Assi di quercia Come cavolo facciamo a fare ste assi di quercia? Te l'ho detto Col banco Col banco Hai ragione Però il ferro come si trova? Forse è qua dietro? No 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 Non rompere Questo è il sespuglio No questo è il sespuglio C'è un apeli Guarda arriva l'ape per copiazzare i fiori Uccidila No Ma tu puoi uccidere tutto Porca miseria Allora guarda La nostra casina è completata Molto bella Che ne pensi? Ti piace? Ah veramente Schifo Dai sei sincero No dai sto scherzando È bella È bella È carina Guarda Ora ci penso io Tocco di classe Sei pronto? Sì Non distruggerla Ti prego Bella Eh? Ok faremo anche il piano superiore allora Eh per forza Fammi andare su Come hai fatto? Ok Finisco di mettere la pietra E poi Ma c'è un alveare qua Non rompere Non rompere quell'albero allora Prova a prendere l'alveare Prova a prenderlo Eh se escono poi le api Mi ammazzano Eh vabbè È un rischio che devi correre Per il bene dell'isola No niente Non è successo nulla Hai distrutto l'albero Kendall Dai porca miseria E le api adesso dove porteranno il miele? Eh? Non possiamo avere Eh c'è un disastro Crescono le bacche da qua C'è un disastro Ma poi con queste bacche cosa ci possiamo fare? Erba alta? Eh magni Eh magni ecco Cosa ci vuoi fare? Mangia Eh ma io non ho fame Ok direi che ci siamo Come casa per ora è un bello schifo Non voglio le bacche Non voglio le bacche Non voglio Guarda guarda Dammela un po' Dammela un po' Ragazzi speriamo che la nostra casa Che fa schifo Vi piaccia Pian piano andremo avanti Dateci un sacco di consigli Per migliorarla Diteci che cos'è quel coso là Come facciamo a prendere i tronchi di pino Il povero pino E da me e Kendall è tutto Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao